Il professore Embrusci ha tracciato nei nostri cuori un ricordo indelebile, un professore che ha insegnato qui al liceo per 14 anni e ha amato i suoi alunni come un padre ama i suoi figli. Ringrazio di cuore la famiglia che ha voluto in questa giornata, che ricorre il primo anniversario della sua morte, omaggiare la scuola di questo concorso di arte figurative dal titolo Le arti, stanze della bellezza, il disegno, le chiavi per entrarvi.